Volevo chiedere se questa malattia ha qualche elemento di ereditarietà e se sono stati fatti degli studi sulle cause scatenanti di questa malattia. Allora, della malattia assolutamente no. Questa è una malattia che nasce in una unica cellula del midollo osseo del paziente e dopo due, tre, quattro, cinque anni viene diagnosticata. Quindi assolutamente non è una malattia trasmissibile alla progenie, non è una malattia che ha una causa di tipo germinale. Il cromosoma Philadelphia è un'alterazione strettamente di una cellula somatica appunto del midollo osseo. La cosiddetta ereditarietà è più magari legata alle capacità di riparo dei danni al DNA. Il cromosoma Philadelphia è un danno al DNA, è due pezzi di cromosomi che si fondono insieme, cosa che non deve succedere in maniera normale. e quindi può essere che chi ha sviluppato questa malattia non abbia dei sistemi di riparo dei danni al DNA super efficienti, mettiamola in questo modo. Questa caratteristica può sì essere legata, diciamo, a diversi polimorfismi a livello germinale, quello che uno chiama la costituzione genetica in senso lato. e questa è una delle ragioni per cui, per esempio, noi siamo molto attenti con i nostri pazienti sulle prevenzioni secondarie delle neoplasie, che poi a me non è che sono moltissime, però il fumo di sigaretta, perché forse a qualcuno magari il fumo di sigaretta non fa male, ma se uno ha già avuto una leucemia è proprio forse la persona giusta per non fumare. la colonoscopia dopo i 50 anni e qualche altra cosa non sono moltissime. Però è vero che i pazienti con leucemia mieloide cronica, come in generale però anche tutti i pazienti che hanno avuto una diagnosi di una neoplasia maligna, hanno un'aumentata incidenza intorno al 20-30% di un secondo tumore. Quindi per questa ragione, da un lato ci può essere, come dice lei, una base genetica della propensione a fare questi errori e due, è importante quindi fare quelle prevenzioni secondarie, perlomeno quelle che sono effettivamente efficaci nel salvare delle vite, proprio sapendo che c'è già stata questa diagnosi. Diciamo che il fatto che le ho detto che la leucemia mieloide cronica viene da un errore che fa una cellula del suo midollo osseo e che viene poi diagnosticata dopo due, tra due e sette anni dopo, viene proprio da un'esposizione massiccia a radiazioni ionizzanti che è stata Hiroshima e Nagasaki. Quindi le radiazioni ionizzanti causano danni al DNA e questi danni al DNA sono la base, per esempio, della formazione del cromosoma Philadelphia. Quindi sicuramente le radiazioni ionizzanti sono coinvolte in questo tipo di malattia. Non è raro osservare, per esempio, magari pazienti che 4-5 anni prima magari hanno avuto un tumore della mammella, hanno fatto la radioterapia sul cavo ascellare e dopo 5 anni sviluppano una leucemia mieloide cronica. Non c'è una prova sicura, però è possibile che questo sia legato all'esposizione a radiazioni ionizzanti o a farmaci citotossici. Ecco, anche l'esposizione a farmaci citotossici che causano più o meno gli stessi danni della radiazioni ionizzanti è similmente associata a un aumento di leucemie, non solo la leucemia mieloide cronica, anche altri tipi di leucemie.